L'uomo Giovanni Piovasco si è miracolosamente risvegliato dopo 31 anni. Lavia. Hai avuto un incidente il giorno dei funerali di Berlinguer e hai dormito a lungo. Quanto? 31 anni. Giorni? Anni? No. Ma lei dov'è? Non lo so. Ma secondo te si ricorda tutto tutto. Possiamo cominciare a raccontarti com'è cambiato il mondo. In meglio o in peggio? Forse è soltanto tu ce lo puoi dire. Berlusconi. Quello delle televisioni. Presidente del Consiglio. Ma che davvero? L'Unione Sovietica non esiste più. Neanche il muro di Berlino. A proposito, chi è il segretario del PC? Portami via delle botteghe oscure. E che c'è a via delle botteghe oscure? Che c'è? Ti assicuro io non sono una merda. E non lo è nessuno in questa storia. Eccomi, sono tornato. Bonbon di crudo di manzo Fassona su spugna di liquirizia e creme fraiche. Io non ci ho capito una ceppa di quello che hai detto.